Siamo alla presentazione dei prodotti alti del OneTouch a Milano, al mondo dell'Università. Parto con la presentazione dei due prodotti chiave che sono protagonisti della campagna di comunicazione di questi metri alti OneTouch e sono OneTouch 2.0, un cellulare full touch dual sim con fotocamera 2 megapixel, display 2.4, radio, bluetooth e micro sd. Passiamo al secondo prodotto della campagna che è il OneTouch Duet Dream, fa parte sempre della famiglia duet, quindi dei cellulari dual sim di Alcatel OneTouch, disponibile in tre fantastiche Glamour colorazioni, il Victorian Blush, il Cherry Red e il Lightroom. Particolarità di questo cellulare dual sim con fotocamera 2 megapixel è la matrice LED che è integrata nel flip esterno di questo prodotto e possiamo vedere qui un esempio. Ad esempio ho messo una lettera ma ognuno può personalizzare questa matrice LED andando a selezionare, ad accendere e spegnere tutti i LED disponibili sulla matrice. Continuiamo con la famiglia duet di Alcatel OneTouch e passiamo al duet app, il nuovo arrivato a dire la verità arriverà a partire dal mese di marzo, è un Android dual sim, Android 2.3, dual sim con cover intercambiabili che potete vedere anche dal packaging. è un UMTS 3G, fotocamera 3.2 megapixel e microSD fino a 32C. partiamo a 149 euro, partiamo infine all'altro nuovo arrivato della gamma Alcatel OneTouch che è un senior phone, si chiama OneTouch 282, ha il tasto SOS per le chiamate di emergenza, tasti, tasti grandi, ampia tastiera e ampio display. Particolarità di questo telefono è la basetta per caricare il telefono. Inoltre il OneTouch 282 ha anche la funzione di voice memo, per cui è possibile memorizzare dei messaggi o degli appuntamenti da segnare in agenza. Perfetto, grazie.